È il volto di cui parlava? Tutti credono un po' al diavolo. Anche quelli come lei che fanno finta di no. Che cos'è? Un biglietto di scuse lasciato da un pirata della strada. Mia moglie e mio figlio sono stati uccisi cinque anni fa a Bethlehem Pike, ma... Non fa niente. Perché chiunque sia stato è dispiaciuto. È evidente dalle accurate scuse scritte su questa ricevuta del lavaggio macchine. Quindi no, io non credo nel diavolo. Non serve. La gente è già abbastanza malvagia per conto proprio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.